Dopo questo periodo di quarantena, di lockdown, si torna sul campo anche per la Palamano? Sì, una situazione strana. Per tutti quanti noi sportivi, come del resto nell'ambito lavorativo, ci siamo quasi tutti fermati. È stata una grande frustrazione perché chiaramente per noi non è solo un lavoro ma anche un divertimento, per cui con grandissimo piacere ritorniamo a lavorare, seppur in maniera un po' ridotta oppure dobbiamo fare ancora molte attenzioni e quindi non è niente ancora normale e siamo troppo contenti di stare insieme e ricominciare. Com'è allenarsi mantenendo queste nuove misure di sicurezza? È strano, dobbiamo prenderci ancora l'abitudine, la mascherina, lavarsi le mani, igienizzare il pallone, ognuno ha il proprio pallone. Sono regole che penso che chiunque si debba abituare, però si deve fare per forza e siamo contenti di farle. I prossimi obiettivi sono le qualificazioni al campionato europeo, siamo nel giugno con Norvegia, Lettonia e Bielorussia e a novembre ci troveremo subito per giocare in Bielorussia in casa contro Norvegia e dobbiamo cercare di riuscire a vincere soprattutto contro Lettonia e Bielorussia e poi, perché no, fare questa partita di gala contro Norvegia che è vice campione del mondo e vice campione d'Europa. Questi sono gli obiettivi, cercare di qualificarci per gli europei. È un onore e un piacere poter ospitare la nazionale maggiore, la nazionale under 20 italiana di Pallamano soprattutto perché è tra le prime federazioni sportive che su tutto il territorio nazionale ha ripreso gli allenamenti quindi è un piacere poterli ospitare qui a Montesilvano ed inoltre perché l'iniziativa si sposa precisamente come tempisti con la riconsegna dei lavori del Palasenna quindi è un piacere ulteriore poter riconsegnare questa struttura alla città contestualmente alla possibilità di ospitare una nazionale così prestigiosa. Sicuramente è una terra dove la Pallamano si conosce, non dobbiamo spiegare niente dove c'è stata una grande tradizione e speriamo di dare ancora impulso per poter continuare a lavorare so che in tante parti si sta ricominciando per cui è sempre importante, la presenza della nazionale fa notizia e questo aiuta a far conoscere la Pallamano, aiuta le società che vogliono lavorare con i ragazzini, con i giovani a trovare terreno fertile.